In esclusiva sulla sette, un doppio appuntamento da non perdere. In prima visione assoluta, Enrico Mentana presenta Ladies and gentlemen, the last president of the United States. Il film del regista premio Oscar e palmadoro a Cannes, Michael Moore, Fahrenheit 11.9. Lunedì 5 novembre, alle 21.15. E martedì 6 novembre, da mezzanotte, Maratona Mentana, una lunga diretta per seguire le elezioni americane di metà mandato.